La partita alle fonti ha confermato la differenza esistente fra le due squadre. La Sansovino di Beoni è ordinata, pulita tatticamente, ma segna col contagocce e non vince da oltre due mesi. L'Arezzo è in salute, ha individualità di spicco e segna a raffica anche quando, per un motivo o per l'altro, non gioca bene. Il 4-1 finale, con cui gli Amaranto hanno maramaldeggiato, è frutto di una superiorità piuttosto nitida e di qualche episodio che ha girato per il verso giusto. Sul 1-0 di Crescenzo, Esposito è stato tradito dal rimbalzo e forse dal vento. Poi Squarcialupi, subentrato proprio a Esposito infortunato, si è fatto cacciare dopo 4 minuti, lasciando la squadra in 10 e con un portiere improvvisato. Per l'Arezzo a quel punto è stato un gioco da ragazzi chiudere la contesa, facendo passare in cavalleria una qualità di manovra non proprio da applausi, ma su un terreno sconnesso e contro un avversario chiuso a riccio, fare di più era impossibile. A prescindere da come andrà a finire il campionato, ci sono alcuni fermo immagini che resteranno impressi nella memoria. Il primo tempo all'esordio di Città di Castello, la prestazione di Martinez a Zagarolo, il gol dai mille significati di raso a Sansepolcro, la paratona di Bucchi con la Deruta e adesso all'elenco si può aggiungere pure il gol di Sisse a Monte San Savino. È partito con il tanganelli attaccato alla schiena e se l'ha scrollato di dosso come un moscerino, è andato al contrasto con Sorrentino che non è un peso più e l'ha lasciato per terra. Poi con la destra ha freddato il portiere, velocità, potenza fisica e tecnica. È stato un super gol. Giusto per chiudere poi il caso Crescenzo. Quando Vettori, durante e dopo la partita con le Ponte d'Era, andò a sbeffeggiare la Minghelli con la mano all'orecchio, si disse e scrisse che era stato un provocatore e nessuno ebbe da obiettare. Ieri Crescenzo la smitragliata poteva farla verso il settore ospite e i 500 aretini listipati avrebbero gradito. Invece, se punti Lemmirino sui tifosi avversari, è normale che quelli se la prendano. Poi è vero che pure Andrea Capacci, dopo essersi riciclato come portiere, alla curva dell'Arezzo ha urlato di tutto e non erano complimenti. Lui e Crescenzo sono ragazzi e la scusa dell'adrenalina si è buona per esputi, falli di reazione, intratacce e risse giganti in Serie A. A maggior ragione è buona per qualche bravata sui campetti di Serie D. L'unica cosa certa è che ognuno deve festeggiare con i tifosi suoi. Con la sosta alle porte e in vista di una volata con il Ponte d'Era lunga altre 13 giornate, l'Arezzo si gode numeri importanti. Bacis è il miglior attacco e la miglior difesa del torneo, ma un retrogusto amaro c'è. La capolista resta più quattro nel distacco che dall'inizio delle girone di ritorno non si è sgretolato nemmeno un po'. Alla fine avranno ragione quelli convinti che si deciderà tutto il 29 aprile, il giorno dello scontro diretto.